Diverse le proposte elaborate nell'ambito del processo partecipato del progetto L'altra città per valorizzare e rigenerare la villa comunale di Foggia, promosso da Consorzio di Cooperative Sociali Oltre la Rete d'Impresa. Il progetto ha concluso il suo cammino iniziato lo scorso 4 luglio, arrivando alla scrittura di una proposta concreta di miglioramento degli spazi del parco urbano Voitila, di cui si discute con l'amministrazione comunale. Io penso che sia giusto, sia legittimo richiederlo, siano tempi maturi dopo anni di incuria, di trascuratezza amministrativa. Come vedete uso aggettivi sempre molto cortesi, perché è nel mio uso quotidiano. Però lì è un bellissimo parco urbano centralissimo, dove si intrecciano elementi naturalistici, culturali, pensate anche le dediche che ci sono arrosati per esempio. È un orto anche botanico, pensate il nostro cosiddetto boschetto, che comunque va assolutamente illuminato, rigenerato, è ricondotto a una gestione assolutamente fruibile dalle masse, non da singoli che magari apprezzano il contesto molto riservato per agire in modo non prettamente leale e legittimo. Recuperare l'identità e eliminare il degrado, avere luoghi sicuri in cui svolgere le attività. E da queste visioni e da ciò che si vuol far diventare la villa, che si deve partire per poter programmare un programma di iniziative da svolgere per riportare bambini, adulti, anziani, famiglie e la comunità attraverso azioni integrate, restituire all'area verde senso originario di giardino all'italiana con cui l'ingegnere Oberti la immaginò nel 1820 come spazio in cui stare insieme, passeggiare e socializzare. Il dialogo instaurato con i partecipanti nel corso dell'incontro ha consentito alle persone di conoscersi, avere fiducia e cooperare per un obiettivo comune.